Ciao, quanto è importante l'istruzione artistica a Cagliari? Diciamo non solo a Cagliari, ma in generale in tutta la nazione, perché l'Italia si forma con l'arte. La si vive, la si respira, ce la subiamo, anche se noi non la vogliamo, però fa parte di noi. Quindi per me è tutto. Poi da artista, logicamente, vi dico che per me è tutto.